Ogni schermo previsto è andato all'amica. L'emozione mi ha fatto molto spesso. Però dirò quel che cuore mi destra. A me e che i frutti anni miei da riservi, perché ci siamo trovati qui questa sera a questa rosa di gloria e ringraziamento al Signore per dire una volta che erano morti insieme «Signore, grazie per quanto mi hai concesso durante la mia vita e in questi 70 anni e 48, dei quali 23 trascorse a Sant'Egidio e 47 in quel carissime ed emisicabile prodottio». 40 come Pasrofo, 7 come Pasrofo ha scritto. Quanto affetto ci siamo scambiati. Quante collaborazioni ho chiesto e mi avete dato. Quanto bene mi avete avuto. Non so come ringraziarvi. Grazie a voi, alla vostra famiglia e a tutti quanti compone questa comunità. E un grazie particolare al nostro Vescovo che mi ha onorato la sua presenza in quelle giorni dimenticabile. E con lui il nostro Vescovo e l'Egidio, che ha tanto amato questa comunità, che ha sempre detto bene questa comunità, che ha sempre parlato in paura di questa comunità. anche a loro e il mio grazie fedele. E l'ultimo grazie al mio successore. Accarizzo Don Marco. E l'approccio quanto ha dominato, e sta coltivando con tanto amore, con tanto impegno, tutte le varie felicità di questa comunità. Che il Signore lo protegga, che il Signore lo protegga, che il Signore gli ha forza di continuare ciò che stiamo facendo. Grazie.